Amici di Tele1, ci troviamo quest'oggi sul lungomare di Schiavonea di Corigliano Rossano per dare atto di una pregevole iniziativa, una delle tante, promossa dalla rete italiana di Sabili di Corigliano Rossano. Riappropriamoci della città, il primo di una serie di percorsi naturalistici che appunto hanno proprio l'obiettivo di favorire la cultura dell'inclusione sociale e di riappropriarsi degli spazi pubblici dei luoghi del territorio comunale. Ancora una volta a farsene portavoce è il giovane presidente Carmine Noè e tutto questo sodalizio è costituito da ragazze e ragazze e dalle rispettive famiglie. Carmine, la rete italiana di Sabili di Corigliano Rossano riprende le attività dopo la pausa estiva. Beh sì caro Fabio, anche se quest'estate non ci siamo fermati un secondo, mai promuovendo attività iniziative, socioculturali e ricreative. Stiamo allestendo la nostra nuova sede a Schiavonea e abbiamo un fitto calendario di appuntamenti in programma. Primi per tutti in inaugurazione nei prossimi giorni della nostra nuova sede. Carmine, ancora una volta appunto siamo qui anche spesso per sopperire a dei vuoti istituzionali. Dal fronte dei rapporti appunto con l'amministrazione comunale si registrano novità? Beh caro Fabio, tutto è come prima. Continuiamo a registrare l'indifferenza di questa amministrazione nei confronti di noi disabili e dei nostri diritti, delle nostre istanze e delle necessità anche delle nostre famiglie. Auspichiamo risposte e chiediamo a scorto e non ci sogneremo mai di farlo. Onorevole Strafaccia, un messaggio appunto anche di speranza e soprattutto anche di condivisione su questi temi che sappiamo essere a lei molto cari. Ma intanto un plauso alla rete italiana disabili della città di Corigliano Rossano per la forza e la determinazione con cui sta cercando di mettere in risalto quelli che sono i diritti di questa parte di popolazione che merita particolare attenzione. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa importante. Intanto le politiche di inclusione e di integrazione sociali devono dare lo spazio necessario da parte delle istituzioni. Da parte mia ci sarà tutta la predisposizione. Abbiamo fatto insieme alla rete italiana disabili della città di Corigliano Rossano un patto durante la competizione elettorale e da parte mia ci sarà tutto l'impegno affinché vengano riconosciuti i diritti essenziali che vanno appunto nella creazione di spazi, di strutture, di infrastrutture che diano ecco quella giusta dignità a questi giovani, a questi ragazzi, a queste persone che oggi sono qui. Quindi non appena ci sarà l'insediamento nel Consiglio regionale farò la mia parte rispetto a quella che deve essere l'attenzione verso questa categoria sociale.